Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Ci ricordiamo questa frase, questo motto, è una commedia di Edoardo De Filippo, non so se l'abbia scritta lui o l'abbia presa da qualche altra parte Però l'esame è in qualche modo sinonimo di test, di prova, no? Provare una persona per accertarne l'idoneità Esami che si fanno, non so, esami di maturità per esempio, oppure i compiti che ci davano quando andavamo a scuola Parecchi di noi non vanno più da un pezzo E i compiti testavano, ecco, quello che avevamo capito, delle cose spiegate, era un test, una prova, un esame Per vedere dove eravamo arrivati con la nostra conoscenza e con quanto quelle cose insegnate erano arrivate dentro la nostra mente Eravamo così padroni Testare, misurare la capacità, misurare il livello di maturità, l'esame e il test, la prova E di solito questo genera una certa dose di tensione Quando si è di fronte ad un esame La maggior parte di noi ha fatto quelli scolastici Ecco, tutta la persona era ben morta Le emozioni, talvolta i pianti L'intelletto, sì, ma anche fisicamente, quei famosi mal di pancia che ci coglievano all'ultimo minuto, all'ultimo momento Gli esami, i test mettono a nudo Quelli che sono le capacità, le conoscenze acquisite Il livello di maturità, ma nello stesso tempo sottolineano e sottolineavano anche quelle che erano le deficienze Lì dove avevamo avuto delle difficoltà a esplicare quel compito Insomma, rispondere, trovare la soluzione a determinati problemi E mettevano in evidenza quelle che erano le nostre difficoltà Da lì forse hanno bisogno di lavorare di più Evidenziamolo quelle che erano le nostre incertezze Le cose sulle quali bisognava ancora lavorare e studiare Gli esami non finiscono mai E non sono solo una prerogativa scolastica Gli esami non possono essere collocati solo nell'ambito della scuola Anche nel nostro cammino cristiano Noi spesso siamo esaminati, testati, provati Ma non per l'usfizio di trovare delle difficoltà o delle deficienze Ma per mettere in pratica, come dire, per vedere se le cose che abbiamo acquisito Le conoscenze che abbiamo acquisito dalla parola del Signore hanno messo radici profonde nel cuore O se sono soltanto delle parole, delle idee rastratte Talvolta gli esami, test che provano Quella che la nostra fede, a differenza degli esami scolastici, non sono annunciati Quei test che ci colgono all'improvviso Sopraggiungono senza essere invitati Sopraggiungono così all'improvviso, come un fulmine talvolta al C.S.R.E. Non danno un preavviso Così si caratterizza quello che è l'esame, la prova, il test della fede Ed è un test che non finisce mai Abbiamo finito forse la scuola media o il superiore o l'università E quindi quegli esami, gli esami Ecco, non abbiamo più a che fare con quel tipo di esami No, gli esami, i test della nostra fede non finiscono mai I ferraventi non finiscono mai Sono costanti Perché costanti sono le cose che minacciano Il nostro cammino Sono costanti le cose che minacciano la nostra fede E non c'è un preavviso Ma anche in questo caso, come gli esami scolastici Questi test, queste prove Mettono in evidenza quello che in realtà abbiamo effettivamente maturato Noi pratichiamo, dice il Signore Gesù, non le cose che abbiamo dito e basta Ma le cose che sono scese nel cuore Sono le nostre convinzioni Le condizioni che ci vengono dalla parola del Signore Quali sono anche le deficienze sulle quali dobbiamo ancora lavorare L'ospizio deve ancora purificare Dove bisogna lavorare Dove bisogna che il Signore continui ancora con la sua opera chirurgica Precisa e perfetta Per fortificare la fede Giacomo dice di considerare come argomento di completa allegrezza Le prove svariate in cui veniamo a trovarci Come si possono considerare argomenti di completa allegrezza Le prove nelle quali noi veniamo a trovarci Perché quelle fortificano la fede Quelle ci fanno capire la cura e la protezione di Dio Che anche se noi non la vediamo Dio non viene in me Consideratelo come argomento di completa allegrezza Dire anche il più grande della tentazione Come dice Corizzi in capicolo 10 In cui possiamo venire a trovarci Anche in quel caso Ci istruisce circa la via, la condotta da tenere Spesso le minacce alla fede non sono così forti Altisonanti che fanno rumore Innanzi alle quali forse le nostre risposte sarebbero altrettanto forti Ecco, se io dicessi a ciascuno di voi Rinnevi tu stamattina il Signore Gesù Anche con la tortura, con altre cose simili Nessuno di noi Secondo me nessuno di noi direbbe Beh sì, io lo rinnevo Dinanzi a delle forti impressioni Ecco, noi rispondiamo sì con risposte abbastanza forti Ma talvolta la nostra fede Nel nostro cammino cristiano Le nostre convinzioni Sono messe alla prova da cose molto sottili Trasparenti talvolta Sudole Che possono in qualche modo insinuarsi E compromettere il cammino Che possono mettere in discussione Quelle che sono le promesse Del Signore Il testo che leggeremo stamattina Ci illustra in qualche modo Alcune di queste minacce Che hanno colpito l'uomo Che aveva ricevuto una promessa Così vogliamo leggere Dalla parola del Signore Nel libro della Genesi Dal capitolo 13 I primi Genesi capitolo 13 Dal verso 1 al verso 18 Abramo dunque Risalita all'Egitto con sua moglie Con tutto quello che possedeva E con Lot Andando verso il mezzogiorno di Cana Abramo era molto ricco di bestiali Di argento e di oro E continuò il suo viaggio Dal mezzogiorno fino a Betel Al luogo dove da principio Era stata la sua tenda Fra Betel e Dario Al luogo dove era l'altare Che egli aveva fatto da prima E qui Abramo invocò il nome dell'Eterno Ora l'oltre che viaggiava con Abramo Aveva anche egli pecore, bui e tende E il paese non era sufficiente Perché essi potessero abitarvi assieme Perché la loro facoltà Erano grandi Ed essi non potevano stare assieme E non aveva una contesa Tra i pastori del bestiame di Abramo E i pastori del bestiame di Lot I cananei e i ferezzeri Abitavano a quel tempo nel paese E Abramo disse a loro Dei Non ci sia contesa fra me e te Né fra i miei pastori E i tuoi pastori Perché siamo fratelli Tutti i paesi Non stai esso davanti a te Dei separati da me Se tu vai a sinistra Io andrò a destra Se tu vai a destra Io andrò a sinistra E Lot alzò gli occhi E vide l'intera pianura del Giordano E prima che l'Eterno Avesse distrutto Sodoma e Gomorra Essa era tutta quanta Indiegata fino a Zoar Come il giardino dell'Eterno Come il paese d'Egitto E Lot si scelse In tutta la pianura del Giordano E partì andando verso l'Oriente Così si separarono Uno dall'altro E Abramo dimorò Nel paese di Cana E Lot abitò nella città Nelle città della pianura E andò piantando le sue tende Fino a Sodoma Ora la gente di Sodoma Era scelerata E oltremodo peccatrice Contro l'Eterno E l'Eterno disse ad Abramo Dopo che Lot si fu separato da lui Alza ora gli occhi tui E mira Dal luogo dove sei A Settentrione A Mezzogiorno A Oriente A Occidente Tutto il paese che vedi Io lo darò a te E alla tua progenie E farò sì che la tua progenie Sarà come la polvere della terra In guisa che se alcuno può contare La polvere della terra Anche la tua progenie Si possa contare Levati Percorri il paese Quanto è lungo e quanto è largo Poiché io te lo darò Allora Abramo Levò le sue tende E venne ad abitare Alle querce di mamme Che sono a Ero E qui edificò Un altare All'Eterno Leggendo questo testo Dobbiamo tenere presente Quello che Abramo Ha ricevuto Come rivelazione Dal Signore Esci dal tuo paese Lascia il tuo paese I tuoi parenti E va Nel paese Che io ti mostrerò E Abramo Capitolo 12 Diceva Dal Signore Una promessa Una promessa Di una progenie Di un territorio Di una grande nazione Di un'eredità Ma Conosciamo anche il fatto Che Abramo Non aveva figli Ci dice che Sara Era Stelle La fede di Abramo Non è stata trovata Testata Solo sul monte Moria Quando prese il suo figlio Isacco Per offrirlo in sacrificio Nel corso del suo cammino Fin da quando ha ricevuto La promessa del Signore Di una progenie Di un territorio Di una grande nazione Di un'eredità La fede di un'eredità La fede di Abramo Ha dovuto Passare Superare Dei test E' stata approvata E nello stesso tempo Approvata Dal Signore Abramo è in cammino Ha ricevuto Una promessa E il test E il test Ci dice che Lot Suo nipote Figlio di suo fratello Viaggiava Insieme A lui E' la prima cosa Che vogliamo Considerare Che la fede In questo caso Ma talvolta Anche la nostra E' minacciata Talvolta Dai legami Familiari Lot Viaggiava Insieme Ad Abramo Era suo nipote Possiamo dire Era Un suo figlio Adottato Ecco Alla morte Del padre Di Lot Capitolo 11 Terra Il papà Di Abramo Prese con sé Abramo Suo nipote E partì Per il paese Di Cana Era con lui Viveva insieme A lui Anche lui Aveva Un'eredità Lasciata Dal padre Che morì Lot Era il parente Più prossimo Di Abramo Quindi Era colui Che doveva In qualche modo Dicevere No? L'eredità Futura Di Abramo Era il parente Più prossimo Ed era logico Per Abramo Pensare Dopo anni Ed anni Ed anni Ancora Di sterilità Era logico Per Abramo Pensare Beh Forse La progenie Che Dio Mi vuole dare Mi vuole dare Attraverso Lot Attraverso Mio nipote Lot Viaggiava Era in cammino Con Abramo Stanno facendo Lo stesso Un percorso Un percorso Forse Dio Forse Dio E' attraverso Lot Che mi vuole dare Una progenie Ed è un pensiero Carmi Non illogico Non illogico Non illogico Non illogico Pensiamo Ecco Dopo il primo anno Della promessa E ne passa un secondo Il terzo E poi cinque anni E poi dieci anni E poi Tredici anni Ci troviamo qui Più o meno Intorno a queste Età Della promessa Ma il Signore Forse La sua progenie Me la vuole dare Attraverso Attraverso Il Lot E' attraverso Lot Che Dio farà Diventare Una grande Nazione Più avanti Leggiamo Questo percorso Che Dopo che Dio Separò Lot Da lui No Abramo E' a te che darò Una progenie A te che darò E Dio Fece questa Separazione Passò ancora Altri anni E Abramo Dice a pensare Ma forse E' uno schiavo Nato in casa mia Attraverso il quale Dio mi darà Una progenie Ero In tentativi Umani O Li pensavo Anche a come Delle vie Di fuga No? Per la nostra Impazienza La fede Talvolta è minacciata Da i legami Familiari Penso tutti di noi Nel momento in cui Il Signore ci ha chiamato A salvezza e Per avvedimento Non abbiamo forse Ricevuto Oppressioni Nei nostri Familiari O per paura Dei nostri Familiari Siamo stati Impediti Di fare Delle scelte Ma quando Il Signore Prende L'iniziativa Di chiamare Di dare Una vocazione Di mettere in atto Quella che è una chiamata Efficace Darà anche la forza Necessaria Per restare Fedele Nel tempo Quando Si è Provati Si è Testati C'è la responsabilità Della risposta E qui la responsabilità Della risposta Di questo test È La separazione Da apportare Forse Abramo L'ha messo Tutta la sua fiducia In lot Ma Dio Crea Delle condizioni Per cui Bisognava Operare Una Separazione La separazione Non è sempre Facile Ci sono Dei legami Forti Come quelli Familiari E non è sempre Facile Da fare Verso Otto Abramo disse All'otto Non ci sia Contesa Dei Mentre I tuoi pastori I miei pastori Ecco Sipariamoci Tu andrai Da una parte Andrò dall'altra Scegli tu Dove andare E cosa accade Dopo Questo test Che Abramo Passò Allora Se ci separiamo Non è più In lot Che Dio Vuole dare Una progenie Ritorna Ancora A questo Sogno Questa Promessa Di Dio E dopo L'esercizio Di questa Responsabilità Da parte Da parte Di Abramo Il Signore Si rivolge Ancora Ad Abramo E c'è Il rinnovo Della promessa Alza ora Gli occhi Alza di nuovo Gli occhi Possiamo immaginare In qualche modo Ok Le mie certezze La mia fiducia Che era posta In lot Ora non c'è più La lot È andata via C'è stata Una separazione Possiamo in qualche modo Pensare Lo sconforto Ma allora ecco La promessa Di Dio Non è vera Una progenie Una grande nazione Il Signore Interviene Ecco La fede È testata Ed approvata C'è il rinnovo Della promessa Alza gli occhi E vedi E vedi Renditi conto Alza ora gli occhi C'è il rinnovo Della visione Vedi tutto questo L'audiente A settant'ora Nell'Occidente Beh Sarà tu C'è una nuova Prospettiva C'è una nuova Forza Per proseguire E c'è questo passaggio C'è questo riferimento Anche all'altare A questo incontro Con Dio Là dove i patriarchi Incontravano Dove Dio Dava delle rivelazioni Particolari Costruivano un altare E Abramo Poteva girarsi indietro E vedere L'altare Nei quali Dio Si era presentato Alla sua vita E gli aveva parlato Alza ora gli occhi Vedi C'è questo rinnovo Della promessa E dice Allora Abramo Levò le sue tende C'è questa nuova Dinamicità Levò le sue tende E venne ad abitare E qui edificò Un altare Ancora Al Signore C'è questa nuova Dinamicità La fede provata Minacciata Dei legami Familiari Testata Passata Alla prova Provata Da Dio Il quale Rinnova Di nuovo La visione Del suo voto E incoraggia A proseguire Il cammino Noi non siamo Escusi Da queste minacce Dalle minacce Che si presentano All'improvviso In un foglio In acce sereno Nella nostra vita Alza ora gli occhi E vedi Quando non vediamo La luce In fondo al tunnel Quando ci sembrano Che le promesse Di Dio Non siano Per noi Forse non sono Per altri Alza ora gli occhi E vedi Cammina Alla mia presenza E si integra All'esultazione Di Dio Alla brava Ma la fede Non è Minacciata In questo Testo Solo Da Da questi Legami Familiari No La fede Minacciata Anche dalla Sua ricchezza Verso 5 Verso 7 Che abbiamo Letto Ora Lot Che viaggiava Con Abramo Aveva anche Gli pecore E bui E temi Il paese Non era sufficiente Perché essi potessero Capitarli assieme Perché le loro Facoltà Erano grandi Ed essi Non potevano Stare assieme Abramo e Lot Erano Molto ricchi Avevano Dei grandi Possedimenti Ma Nel testo Nel capitolo 13 Dice che il paese Non era Sufficiente Perché essi Potessero Abitare Insieme E non solo Dice che a quel tempo Oltre a Lot E ad Abramo C'erano I Cananei I Ferzei Che abitavano Il paese Il paese Non era Sufficiente Per loro Signore Ma tu Mi hai Promesso Una grande Nazione Una nazione Una nazione Senza confini Una proprietà Un territorio Infinito Sul quale Poteva Vivere Pienamente Una progenie Che non si Poteva Contare Perché era Come la Rena Del mare Io mi trovo Di fronte Adesso Nella mia Vita Reale A vivere In un paese Che non È sufficiente Né per me Né per Lot La sua fede Era minacciata Anche Dalla sua Ricchezza La Bibbia Non demonizza La ricchezza Non demonizza Il denaro Il denaro Non è qualcosa Di sporco Di cui Purtroppo Non ne possiamo Fare a meno La Bibbia Contanna L'atteggiamento Dell'uomo Verso il denaro Là dove Il tuo tesoro E anche Il tuo cuore Questo non va Non è tradito Anche il Signore Gesù Ha condannato L'atteggiamento Degli uomini Nei confronti Delle Ricchezze Paolo Parla nelle sue lettere Di amore Per il denaro È la radice Di ogni sorta Di male Dice Attimodo Gesù Condanna Alle speranze Che gli uomini Mettono Nelle ricchezze E nel denaro Il ricco Si deve Gloriare Non della sua Ricchezza Dice Il profeta Osea Ma che Conoscimento Dice il Signore Ora Se è vero Come è vero Che la Bibbia Non condanna La ricchezza Allora In che senso La fede Di Abramo Messa Alla prova Dalla sua Ricchezza Perché In questo caso Mette in evidenza Quanto sia Limitato La sua Libertà Nella Terra Promessa Il paese Insufficiente Riporta Alla mente Questa Promessa Del Signore Di un Grande Territorio Ma La realtà Gli dice Che non c'è Un grande Territorio E sono passati Ancora degli anni E altri Andavano Un paese Una grande Nazione Queste cose Ecco Cozzavano Con la realtà Che in quel momento Viveva Abramo E tante volte Nella nostra vita Ci sono delle cose Che cosano Con quelle che sono Quelle che sono Le promesse Del Signore Ci troviamo talvolta In situazioni In cui ecco Si vediamo Tutto buio Tutto tenebre Intorno a noi E queste cose E queste cose Fanno una tale Nella nostra mente Nel nostro cuore Che ci fanno Dimenticare Dimenticare Quelle che sono Le promesse La cura La protezione La pace Del nostro Signore In quel momento C'era C'era un paese Che era Insufficiente Ma signore Non mi avevi Detto tu Che dovevo avere Un grande paese Una grande Nazione E' passato Tantissimo tempo Dalla promessa Signore Ma mi avevi Detto tu Che non mi farai Mai mancare Quello che è Innecessario Per me La fede Talvolta E' minacciata Così come In questo caso La fede di Abramo E' stata Testata Anche dalla sua Ricchezza Anche dalla sua Ricchezza Una terza cosa Che Andiamo Vedere insieme La fede Talvolta E' minacciata Anche dall'impazienza Anche dall'impazienza Dopo tanti anni Ormai La possibilità Di assicurarsi La promessa La Prosperità Della terra Ma si Forse è questa La terra Che il Signore Ci ha voluti dare C'è una Separazione Tra Lot E Abramo Abramo invita Lot A fare una scelta E Lot Sceglie La cosa Più Semplice Più facile Ecco Sceglie La pianura Del Giordano Una terra Fertile Non c'era bisogno Di affaticarsi Di portare Il bestiame Lontano Per Farlo Mangiare Per farlo Avverare Lì in quella pianura C'era tutto Molto fertile Come il giardino Di Dio Il paese D'Egitto E questa è la scelta Che Lot Fa Abramo Poteva dire A suo nipote Beh Questa è la parte Migliore Del paese Io stazionerò qua C'è il fiume C'è La vegetazione C'è poco lavoro Da fare Lot Aveva In qualche modo Fatto la sua scelta Abramo Potreva Come dire Rispondere All'impazienza Al passare Del tempo Cercando Una terra Dove Scorre Il latte Miele Prospera Ci sono delle esigenze Etiche Morali Che guidano Che guidano Coloro che sono stati Chiamati Dal signore Lotto Non fa Questo Un po' di scelta Innanzi a questa pianura C'era la città di Sodoma E la città di Molona Qui definite Scelerate Estremamente Peccatrici E Lot Pianta le sue tende Lì In quella pianura E pian piano Le sue tende Vanno ad avvicinarsi A quelle città Scelerate E peccatrici La prosperità La progene La grande nazione Senza il dovuto Riguardo L'esigenza etica Del patto Di Dio Lasciano il tempo Che trova Abramo Superò Superò Questo test Ha scelto La pianura Che La terra È di Dio Cui che ha promesso Una grande nazione Un territorio Ma Abramo Aveva ricevuto Dal Signore Anche un'esultazione Particolare E precisa Va Dove io Ti mostrerò E Dio Non aveva ancora Mostrato nulla Aveva in mano Delle parole Una rivelazione Una promessa E il Signore Dice Soltanto Cammina Del patto E del cammino Cristiano Abramo In questi test Per la grazia Di Dio Ha dimostrato Di possedere La sua fede È stata approvata E approvata Ha ricevuto L'approvazione Di Dio stesso Che rinnova La visione Abramo Abbiamo le vuole Le sue tende Si rimette In cammino Da che cosa Stamattina In questo tempo La nostra fede Trovata E testata Noi sappiamo Che Satana È un leone Ruggette Che va intorno Cercando Cercando Chi possa Devorare Sappiamo Che talvolta Il rifiuto Nostro Delle responsabilità Derivanti Da un servizio In qualche modo Possono Inserirsi Nella mente Nel cuore E dire Voglio meno Responsabilità Voglio avere Più libertà Non mi conviene Fare questo E fare questo E si cercano Così Vie di fuga Ma che cosa La nostra fede È testata E provata In questo tempo Forse talvolta È così Trasparente Subito Alla minaccia Che stiamo subendo No Che noi Non riusciamo A capire E a vedere bene Però possiamo avere La certezza Che Dio Sai Da che cosa È minacciata La nostra fede Dio sa Quali sono I dubbi Che vogliono Insinuare Determinate Realità Che viviamo Determinati Pensieri Dio sa Che qual è Che sta dietro Che muove Che alimenta Dei pensieri Allora noi vogliamo Stamattina insieme Chiedere al Signore Sì Signore Ci rendiamo conto E sappiamo che Il cammino cristiano Non è facile La seguenza di Cristo Alla quale siamo stati chiamati Non è affatto semplice Che ci siano dei combattimenti Ci sono dei test Da fare Ci sono dei test Da superare Per essere poi Così Approvati Dal Signore Talvolta non sappiamo Che cosa Ci sta minacciando Ci sta provando Non abbiamo Questa lucidità Abbiamo bisogno Del discernimento Dell'azione Dello Spirito Santo Però Possiamo avere L'atteggiamento Che ha avuto Qui a Abramo Il Signore Ha rinnovato La visione Del suo volto Alza ora gli occhi E vedi Alza ora gli occhi E guarda di nuovo La realtà Con la prospettiva Che io ti do Con la prospettiva Che io ti do Alza ora gli occhi E vedi Tutto questo paese Lungo e l'anno Questo sarà Non sarà Ismaele Non sarà Lotto Non sarà Ismaele Ma In Isacco Io ti darò poi Un altro genio Che il Signore Difficile Pensare come not Alle cose semplici A prescindere Dalle esigenze etiche Morali del parto Pensare come tutti Che Dio Che Dio rinnovi La visione La promessa E il progetto Alla quale Al quale ci ha chiamato Pregiamo Signore possiamo Imposarci pienamente Signore Signore E il fatto Signore Che nulla Può coglierti Di sorpresa Tu sei anche Più grande Del nostro cuore Tra volte il nostro cuore Malvagio Signore Medita Pensa Delle vie Signore Semplici Facili Talvolta Signore Non ci rendiamo conto Delle minacce Sub Sottili Che si insinuano Nel cuore Nella mente Che vogliono In qualche modo Orientare I nostri passi Verso qualcos'altro Signore Ti prendiamo Di mantenere Attraverso L'aiuto Del tuo spirito I nostri occhi Aperti Che gli occhi Del nostro cuore Signore Possono Del continuo Essere aperti Alimentati Dal discernimento Che viene Dalla lettura Dalla conoscenza Della tua parola Ti ringraziamo Signore Che Anche attraverso I test Le prove Gli esami Anche attraverso Signore Talvolta Le cadute Tu fai cooperare Al bene Anche quelle Per il nostro Bene Per il continuo Del nostro cammino Grazie Signore Che tu Dai spessore A quelle che è la nostra fede In un Dio Rivelato In un Dio Creatore In un Dio Che si cura Protegge Provvede Del continuo In maniera costante Al necessario Del suo popolo Ecco Signore Questa chiesa È nelle tue mani A Tu sei fare Molto Molto Al di là Di quello Che possono fare Gli uri E grazie Che in virtù Della vittoria Di Gesù Cristo Le porte Dell'Ares Non la possono Vincere Ora Signore Vogliamo Ecco Levare le nostre Tende Di metterci In cammino Alzare gli occhi Osservare la realtà Con una nuova Prospettiva Che ci viene Dalla rivelazione Della Tua parola Ti preghiamo Di rinnovare La visione Del tuo volto Di rinnovare Signore E farci vedere Il progetto Al quale Tu ci hai chiamati A partecipare In maniera attiva Dinamica Con passione Per la gloria Nel tuo volto Nel Signore Gesù Ti preghiamo Amen Amen